70 anni fa Robert Schumann, ministro degli esteri francesi, lanciava la sua dichiarazione, una proposta di mettere in comune la sovranità sul carbone e l'acciaio rivolta alla Germania e agli altri paesi europei e occidentali disponibili. In sostanza la comunità europea del carbone e dell'acciaio era la comunità europea della SAR e della RUR, i bacini carbosiderurgici per il cui controllo Francia e Germania avevano combattuto tre guerre in un secolo, due guerre mondiali tra le altre. Ecco quindi che l'Europa nasce come un progetto di pace e la dichiarazione Schumann dice questa comunità deve essere il primo passo verso una vera federazione europea. Sono passati 70 anni, oggi abbiamo l'Unione Europea con una moneta unica, un ordinamento giuridico autonomo, diritti fondamentali per i cittadini, ma la federazione europea ancora non c'è. La pandemia mette in crisi questa Unione ancora fragile e ci pone il dilemma che 70 anni fa si era posto, quello della pace, quello dell'Unione o della divisione europea. Ecco quindi che la sfida oggi è portare a compimento quel processo di unificazione politica ed economica del continente europeo affinché possa contare qualcosa nel contesto globale in cui dominano i colossi continentali come Stati Uniti, Cina, Russia ed India. E questa dunque la scelta di fronte agli europei.